La Maze presenta la trasformazione del VIVI! Con il numero 99, 5! Con il numero 2, 2! Con il numero 5, 5! Con il numero 8, 6! E per la prima volta, Sanzino! Con il numero 9, 6! Con il numero 10, 6! E con la faccia di capitano, con il numero 13! Sanzino! Con il numero 21, Luca! Sina! Con il numero 22, Matteo! Con il numero 68, Riccardo! E con il numero 79, 3! A disposizione del Milan! Con il numero 25, con il numero 8, Sanzino! Con il numero 8, Reina! Con il numero 90, con il numero 8, Roma! Con il numero 8, Josef Nomi! Per la prima volta, con il numero 7, Samuel Castello! Con il numero 11, Sanzino! Con il numero 9, Bolini! Nella prima volta, con il numero 11, Timbule! Baccaraccio! Con il numero 16, Andrea! Con il numero 20, Ignazio! Con il numero 11, Gnazio! A parte! Con il numero 93, per la prima volta, Mattia! Con il numero 56, Stasman! Si vince! E con il numero 63, Patrice! E per la prima volta, con il numero 23, Diego! A parte! A parte! A parte! Gennaro! Giacchuto! Arbitrari! Giorgio! Banto, Guida! Assistenti! Trampone! Maeseric! Assistenti! Maio! Mazzanelli! Treggio!